bentornati su stoicamente e bentornata anche a me che manco da un po da questa piattaforma del resto sono stati tempi duri per tutti vi auguro di aver avuto un anno decente non mi sbilancio troppo con questo video intendo proseguire la serie iniziato ormai un anno fa sulla grammatica e la grammatica storica della lingua latina basata principalmente ma non esclusivamente sulla propedeutica latino universitario dell'emminente latinista alfonso traina l'argomento di questo video è il perfetto latino passiamo dunque dal macro argomento della fonetica a quello della morfologia in questo video elencheremo i vari tipi di perfectum latini sia quelli individuati nella propedeutica sia altre forme magari ritenute anomalie o eccezioni oppure forme meno diffuse innanzitutto a che cosa vi serve conoscere i vari tipi di perfectum latino beh dovendo conoscere i paradigmi come ben sapete il perfetto è la terza forma del paradigma quindi ciccia purtroppo vi tocca conoscerli ma non solo in realtà conoscere i vari tipi di perfetto vi sarà molto utile perché individuando l'assenza o la presenza di determinati elementi morfologici sarete in grado con buona probabilità e con un po di esercizio di risalire alla forma dell'infectum ovvero al tema del presente e dunque al resto del paradigma sostanzialmente che cos'è il perfectum il perfetto è un tempo verbale ciò che è importante sapere preliminarmente è che esso è una forma sincretica vale a dire unisce o con globa delle forme morfologicamente diverse di due tempi che per esempio nel greco sono presenti e che risalgono ovviamente all'indoeuropeo ovvero il perfetto propriamente detto e lauristo il perfetto infatti non ha originariamente un significato di tempo passato il significato di perfectum è concluso portato a compimento e in questo si oppone al tema dell'infectum che invece è qualcosa in via di svolgimento e quindi originariamente si tratta di un'opposizione di aspetto che viene poi a marcare una temporalità e porta il perfectum in un tempo preterito passato e l'infectum invece al tempo presente creando questa posizione binaria nel sistema verbale latino tenete presente che noi parliamo di tema del perfetto e non soltanto di tempo perfetto perché dal tema del perfetto derivano in realtà una moltitudine di tempi in latino possiamo quasi dividere in due una ipotetica una griglia virtuale del sistema verbale latino con delle aggiunte abbiamo da una parte i tempi derivati dal tema dell'infectum dall'altra i tempi derivati dal tema del perfectum quelli derivati dal tema del perfectum sono l'indicativo perfetto più che perfetto e il futuro anteriore il congiuntivo perfetto e più che perfetto e anche l'infinito perfetto quindi vi sarà estremamente utile riconoscere i vari temi del perfectum cominciamo con i tipi di perfectum che il traina distingue nella sua propedeutica il primo è il perfetto in ui dico ui ma potrei dire vi anche se in realtà dire vi mi permette di conglobare il perfetto in vi e il perfetto in vi infatti noi sappiamo che nella pronuncia ricostruita si pronuncerebbero entrambi ui e infatti sono un unico tipo di perfectum ma nella pronuncia ecclesiastica pronunciamo da una parte vi e dall'altra ui vediamo adesso qual è la differenza tra le due ovvero quando viene fuori l'anima consonantica di quella u e quando viene fuori l'anima vocalica prima però interroghiamoci su quale sia l'origine di questo suffisso del perfetto in realtà l'origine non è certa è probabile che venga dal perfetto più diffuso ovvero il perfetto del verbo sum che è fui ma di questo non abbiamo in realtà che congetture proseguiamo quindi su ciò che vi stavo dicendo ovvero quando abbiamo vi e quando abbiamo ui dopo una vocale tematica lunga amavi la u sprigiona la sua anima consonantica sia che la pronunciate amavi sia che la pronunciate amavi dopo una vocale tematica breve come nel caso di monui la vocale tematica breve si assimila alla u vocalica di conseguenza abbiamo monui ricordatevi che ad esempio nei verbi della seconda coniugazione la e dell'infinito è certamente una vocale tematica lunga monere ma al presente noi abbiamo vocale tematica breve monio, doceo, monui, docui un ultimo cenno va fatto per quei perfetti sincopati che derivano da un originario perfetto in vi ma dove dopo vocale lunga quella vi o u che dir si voglia è caduta come nel caso di audiiit il secondo tipo di perfetto affrontato dal traina nella propedeutica è il perfetto a raddoppiamento possiamo considerare questo perfetto quello che prosegue in larga parte il perfetto indoeuropeo basta guardare alcuni verbi difettivi presenti soltanto al perfetto come memini la vocale del raddoppiamento è una e che segue sostanzialmente alla consonante della radice ripetuta appunto è lì che sta il raddoppiamento vi farò degli esempi per chiarezza non mancano però dei casi di assimilazione alla vocale radicale come ad esempio da sponde o spopondi sostanzialmente l'assimilazione non fa altro che far sì che la vocale del raddoppiamento sia la stessa della vocale radicale al posto di essere la classica e normalmente il raddoppiamento si perde nei composti ci sono però poche eccezioni come ad esempio per ovvie ragioni fonetiche i perfetti bisillabici come dedi e abbiamo anche qualche caso di ricomposizione per evitare l'omofonia con il presente la scomparsa del raddoppiamento nei composti ha avuto almeno tre conseguenze la prima è l'omofonia con alcune forme del presente la seconda è la formazione di un altro tipo di perfetto nel composto la terza è il passaggio del perfetto senza raddoppiamento dal composto al semplice di cui l'esempio più lampante è tuli da un originario tetuli che sarebbe il perfetto di tollo e che va a supplire alla mancanza del perfetto nel verbo ferro di cui sapete tutti il paradigma ferro fers tuli latum ferre il terzo tipo di perfetto di cui parla traina è il cosiddetto perfetto ad alternanza vocalica radicale che è un perfetto che presenta apofonia indoeuropea se non ricordate di cosa si tratta andate a vedervi il primo video o riguardatevi il quarto capitolo della propedeutica latino universitario o fate qualche ricerca sull'apofonia indoeuropea ad ogni modo ciò che mi preme ribadire in questa sede così come ho fatto nel primo video è che l'apofonia indoeuropea in latino ha una sua consistenza un residuo importante soprattutto nell'opposizione tra infectum e perfectum in questo tipo di verbi con appunto il perfetto ad alternanza vocalica radicale soltanto una cosa dovete ricordare di questo tipo di perfetto che l'alternanza può essere o soltanto quantitativa del tipo edo edi o video vidi oppure sia qualitativa che quantitativa del tipo ago e g faccio feci da notare che in questo tipo di alternanza al presente noi abbiamo una vocale breve la a di faccio la a di ago e al perfetto abbiamo una vocale lunga feci e g così anche appunto nel perfetto ad alternanza solo quantitativa al presente una breve al perfetto una lunga l'ultimo tipo di perfetto affrontato da traina è il cosiddetto perfetto sigmatico che come dice il nome esce in similante in s banalmente in si è il perfetto che risponde al auristo greco visto che prima abbiamo menzionato il sincretismo da cui è caratterizzato il perfetto latino tra perfetto propriamente detto e auristo come nella terza declinazione che ha appunto denominativi sigmatici spesso anche qui il problema maggiore si pone nell'incontro con la consonante che precede il suffisso cioè l'incontro tra la consonante finale del della radice e la similante del suffisso del perfetto sigmatico nel caso di una radice che termina in velare o culturale sono sinonimi quindi q o g eventualmente l'aspirata estremamente rara abbiamo una x che come sappiamo non è in realtà una consonante normale ma è una consonante doppia una consonante appunto che rappresenta tra una gutturale e una similante x dunque dunque duco duxi nel caso in cui invece l'incontro avvenga con una dentale la dentale viene semplicemente assimilata possiamo dire che cade il termine corretto è sicuramente assimilazione ma per chiarezza vi parlo di caduta come nel caso di l'uso nel caso in cui la consonante finale di radice sia una labiale abbiamo una psi anche questa consonante doppia che in latino viene espressa da un di gramma perché non abbiamo un unico segno per questa consonante e dunque scrivo scripsi nel caso in cui la radice termini in sibilante attenzione nel perfetto abbiamo la geminata quindi si raddoppia la sibilante gessi ma al presente l'originario geso viene rotacizzato ovvero la s intervocalica prima si sonorizza da geso a geso poi si rotacizza gerro e dunque noi avremo sostanzialmente dei temi all'infectum che terminano con una r e al perfectum che terminano in s geminata in una doppia s quindi gero gesi nel caso in cui la consonante finale di radice sia una nasale non abbiamo in realtà grossi problemi maneomansi rimangono entrambe le consonanti a queste quattro categorie possiamo aggiungere dei perfetti particolari diversamente caratterizzati può accadere ad esempio che il tema del perfetto e quello del presente si sovrappongano ovvero che non ci sia sostanzialmente differenza e si parla allora di perfetto non caratterizzato come nel caso di bibo bibi ci sono poi delle regole fonetiche particolari che danno luogo a dei perfetti quindi di cui appunto non abbiamo parlato ad esempio ci sono dei suffissi che noi troviamo solamente al presente come il suffisso scò tipico dei verbi inquativi che scompare negli altri temi quindi in quello del perfectum e anche nel tema del supino un esempio cresco crevi che dunque ha un perfetto in vi o vi ma perde anche questo suffisso caratteristico del tema dell'infectum un altro non chiamiamolo suffisso ma infisso in questo caso caratteristico del infectum è una nasale una infisso nasale n come in relinquo che nel perfetto scompare reliqui in questo caso abbiamo poi anche un'alternanza apofonica radicale di tipo solo quantitativo ovvero la i di relinquo è una i breve la i di reliqui è una i lunga oppure possiamo avere sempre in questi verbi caratterizzati da un infisso nasale al presente un'alternanza apofonica sia qualitativa che quantitativa come nel caso frango freggi dove la a è breve e la e invece è lunga a questi si aggiungono poi i verbi politematici che sicuramente conoscerete almeno alcuni perché si sono quelli che si studiano con maggiore insistenza ferro fers tuli latum ferre sono sostanzialmente dei paradigmi caratterizzati da suppletivismo e da variazione tematica quindi non abbiamo sostanzialmente i temi derivati dalla stessa radice verbale ma da altre radici quindi da altre parole se vogliamo con delle analogie di tipo semantico ma non morfologico concludo così il mio video sul perfettum latino e ricapitolando abbiamo visto come traina evidenzi nel suo quinto capitolo della propedeutica latino universitario quattro principali tipi di perfetto ovvero il perfetto in ui o vi il perfetto al raddoppiamento erede diretto di quello indoeuropeo il perfetto ad alternanza vocalica radicale dove possiamo osservare operante l'apofonia indoeuropea per chi non la ricordasse suggerisco il video o il capitolo 4 della propedeutica e infine il perfetto sigmatico che è morfologicamente paragonabile all'auristo greco a questi abbiamo visto se aggiunge il perfetto non caratterizzato e altri tipi di perfetto in cui sono assenti dei suffissi o degli infissi caratterizzanti l'infectum io proseguirò questa serie di video dedicata alla propedeutica e dunque alla grammatica storica e la linguistica della lingua latina ma cercherò di iniziarne anche una nuova dedicata invece alla grammatica normativa di più ampio respiro su argomenti appunto di grammatica probabilmente in ordine un po' sparso per ripassare insieme si baserà anche sui suggerimenti che vorrete darmi vi invito infatti se doveste avere dei dubbi se voleste suggerire qualcosa o persino se doveste trovare degli errori all'interno dei miei video di scriverlo nei commenti qua sotto vi lascio inoltre se siete interessati in descrizione un contatto mail per chi volesse contattarmi per le lezioni private che normalmente svolgo dove troverete anche l'errata corrige ovvero la lista di errori e strafalcioni che mi sarà accorta di aver fatto dopo il caricamento del video auguro a tutti buono studio e mi raccomando latinistri di tutto il mondo unitevi